belli e brutti come state state bene vorrei rispondere a un video che ho visto che la svizzera fa schifo e ha elencato tre punti il primo punto sarebbe che il caffè costa magari più di 90 centesimi secondo punto che appunto il magari le tasse sono più basse dell'italia è il terzo punto è che che in italia la maggior parte della gente guadagna solo dei 15 a 30 mila euro all'anno è chiaramente con questi soldi in svizzera non sopravvivi e questo è tutto vero ma non è il problema della svizzera tutti questi punti non sono il problema della svizzera il vero problema il succo dalla svizzera diciamo che che uno se ne accorge solo quando una volta veramente vivi in svizzera sono non le tasse si le tasse potrebbero essere un problema se sei una coppia che lavora sposata allora lì ti arrivano certe badoste che che veramente perché qui le le tasse li paghi annuali però comunque non è neanche appunto il caffè che costa 90 centesimi allora il punto è per esempio la sanità la sanità in italia è gratuita ok so che il servizio non è ottimo se vuoi avere qualcosa diciamo un servizio migliore o vuoi avere un appuntamento è prima devi pagare 100 200 euro e mi sta tutto bene però la gran parte diciamo la base è gratuita in italia in svizzera no in svizzera questa veramente una badosta ogni mese e questa badosta di mensile che ti viene a costare se sei una famiglia di 34 persone anche mille franchi al mese senza problemi è veramente pesa moltissimi moltissime famiglie perché poi c'è un altro fatto da dire anche se tu hai l'assicurazione sanitaria qui in svizzera non ti copre tutto cioè tu non hai un servizio completo tu non hai una una diciamo una sicurezza completa finanziaria perché l'assicurazione sanitaria qui ti copre solo una parte l'altra parte la paghi sempre tu e questa è individuale dipende che tipo di assicurazione che tu hai scelto perciò per esempio nel mio caso ogni volta che vado a fare un'analisi del sangue qua di là mi arrivano badosti di 23 mila franchi senza problemi perché la svizzera fattura così invece in italia costa 160 euro e chiaramente se sei quattro persone in una famiglia ognuno si va a fare il suo controllo medico beh sono soldi e cioè questo questo il succo del problema l'altro problema però che molti io io lo trovo molto più grave una volta che tu entri in una certa età diciamo e magari hai bisogno di aiuto magari dovresti anche finisci in una casa di riposo cari miei lì 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 vedrai come la svizzera che grande paese è parte che asciugono tutto a te alla tua famiglia ai tuoi figli ti prendono tutto quanto tutto non ti rimane più un centesimo cioè 40 anni di lavoro buttatevi al vento e io vi posso garantire che che ho ricevuto delle delle conferme da amici che mi hanno mandato ma appunto la loro fattura di cosa pagano loro per la casa di riposo è il minimo che ho visto sono 6 mila franchi al mese che la famiglia paga e poi va su fino a 20 20 mila 30 mila 40 mila c'è proprio prodoste che che ti asciugono tutto tutto il patrimonio è lavorato in 40 anni torno te lo prendono tutto lo stato tutto non ti rimane più niente consiglio mio è quello che in pratica hanno fatto forse i nostri genitori la prima generazione di emigrati qui in svizzera venire qui in svizzera lavorare 20 30 anni e poi arrivederci grazie perché vi posso garantire che non ce la fai qui nella vecchia specialmente la terza generazione o la seconda diciamo quelli sicuramente non ce la faranno e quando quando entrano entrano nell'età di pensione non ce la fanno sopravvivere qui in svizzera perché non ti la pensione che ricevi dalla stato ti copre il minimo 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 e neanche poi andare a prenderti un caffè con quella pensione e poi c'è la pensione privata cioè quella della della cassa di pensioni che che ti arriva o ogni mese aggiuntivo a quella quella statale e con questi due normalmente dovresti sopravvivere in svizzera ma non è più così era prima così siccome la cassa pensioni da vent'anni non ti da neanche più interessi prima di davano il 3 4 per cento di interesse sul capitale invece è ora è zero o meno allora il tuo capitale risparmiato in pratica non non sopravvive il carico il caro vita diciamo di di anni degli anni successivi per questo tutto il capitale viene azzerrato in un paio di anni diciamo così e poi c'è la terza il terzo pilastro il terzo pilastro sarebbe quello che tu puoi risparmiare in banca in assicurazione privatamente se c'è ancora soldi da parte a ogni mese se uno ha fatto questo poi dipende anche che somma va a risparmiare perché anche qui ti ti raccontano un sacco di fesserie con questo terzo pilastro ti dicono che puoi risparmiare tasse ma non è così perché alla fine tu paghi di tasse cioè tu alla fine quando quando riscuoti il capitale dopo quando avrai raggiunto i 65 anni e vuoi andare in banca o l'assicurazione richiede il tuo capitale che hai risparmiato per trent'anni quarant'anni dal terzo pilastro tu paghi le tasse e come li paghi una bella badosta arriva e questo è questo chiaramente tanta gente non lo sa la gente crede risparmia tasse basta c'è solo questa informazione ma che deve pagare le tasse sul capitale riscuotato questo non lo sa quasi nessuno e per questo il vero problema appunto dalla svizzera non è il caffè non sono il parcheggio che paghi un euro o non è neanche per chi non guadagna 15 30 mila euro all'anno che non può sopravvivere qui in svizzera il vero succo del problema è proprio la sanità in svizzera il cioè proprio sopra carico carissima carissima per un servizio diciamo così così non è proprio il miglior servizio che ti danno è punto poi senti in una certa età e hai bisogno di aiuti allora o appunto se ti capita qualcosa malattia divorzio qualsiasi cosa allora anche lì vedrai come la svizzera che grande paese che perciò ricordati bene tutto quello che oro non lucida o tutto quello che lucida non non è oro diciamo così ma che era con più giusto dirlo così comunque ecco il vero succo dal problema proprio questo bene tutto qui allora vi lascio ora ciao